E' visitabile fino al 30 settembre a Palazzo Lascaris la mostra d'arte intitolata Sono altro, sono altrove, a cura di Thea Taramino, Marzia Capannolo e Roberto Mastroianco. Una mostra che è aperta al pubblico già da qualche giorno, abbiamo voluto aprirla e riprendere le mostre qua a Palazzo Lascaris con una mostra particolare. Le 20 opere in esposizione di 7 artisti piemontesi più una grande opera collettiva abbracciano temi molto differenti tra loro. L'impatto visivo principale dato dalla grande installazione interattiva di arte contemporanea 170x80, What Camps First di Sara Conforti. La mostra vuole far emergere un'arte significativa prodotta ai margini di quella ufficiale con un importante allargamento di senso dato dal progetto europeo Deep Axe, indirizzato al contrasto della violenza di genere. L'obiettivo è offrire metodi innovativi e strumenti di lavoro specifici come l'arte terapia e l'educazione emozionale ai professionisti e alle organizzazioni che operano nella prevenzione della violenza di genere e del disagio psichico. Opere insolite che invitano a rivolgere lo sguardo a ciò che ci sembra altro e a cercare patrimoni artistici nascosti in un altrove spesso non lontano geograficamente ma distante dalle consuete rotte culturali. La mostra Sono Altro, Sono Altrove è visitabile fino al 30 settembre a Palazzo Lascaris in via Alferi 15 a Torino, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, sabato e festivi esclusi. L'ingresso è gratuito. Dobbiamo fare in modo tale che i cittadini conoscano Palazzo Lascaris, il consiglio regionale per l'istituzione che è un ente legislativo, fa legge e modifica legge e dall'altra parte l'apertura del palazzo con le moschere e con gli eventi tutto l'anno all'interno riaprendo dopo il periodo Covid.